Oggi siamo qui perché siamo quattro architetti, Achille Pajanini, Clara Tarca, Paolo Marconi e io sono Alessandro Ceccarelli. Quattro professionisti ma preoccupati della sorte di un importante edificio, quale l'edificio del Palazzo della Provincia, in quanto rappresenta un esempio molto corretto dell'architettura moderna locale. Ora l'idea di trasformarlo è possibile ma occorrono una serie di attenzioni. Ci sembra che nel dibattito politico e amministrativo che c'è questo tema non venga affrontato e noi siamo qui oggi proprio per ribadire questo. Attenzione, trasformare questo edificio rischiamo di snaturarlo, secondo la variante richiesta al piano regolatore che prevederebbe la totale trasformazione in residenza, commerciale e servizi. Questo porterebbe questo edificio a cambiare e a non mantenere più le sue caratteristiche. Avete già parlato con i diretti interessati in questo caso? No, un dibattito non c'è stato se non attraverso la stampa. Abbiamo visto anche, sollecitato dai giornalisti dalla stampa, il sindaco Matteo Ricci che ha messo là una proposta di destinare l'edificio a università e questa è una delle soluzioni che noi condividiamo pienamente. Crediamo proprio che la destinazione più corretta per quell'edificio sia proprio una destinazione pubblica e l'università in particolare sarebbe perfetta. Dal vostro punto di vista la soluzione peggiore sarebbe quella della demolizione dell'edificio anche perché comunque dal punto di vista storico lo possiamo così definire anche un monumento della città. Esattamente, la demolizione è la cosa più assurda che possiamo pensare proprio perché ormai l'edificio è entrato a far parte dell'immaginario, dell'identità della nostra città e perché, ripeto, rappresenta un ottimo esempio, un monumento di architettura moderna che ormai in tutta Italia, ma in tutto il mondo, si sta procedendo a conservare e a tutelare. La sovrintendenza ha messo delle prescrizioni nella trasformazione, ha fatto ciò che poteva fare, ma ovviamente questo non è sufficiente a conservare in tutto l'edificio. Come consigliere comunale credo che sia importante, da un lato, raccogliere quello che è il contributo di architetti e di persone esperte e formate su questi argomenti e dall'altro anche quello di vigilare su quella che è l'operazione che riguarda la sede della provincia. In questo momento ancora non abbiamo certezze di alcun tipo su quello che sarà l'iter urbanistico e quella che sarà la visione di questo luogo. È un luogo importante, che è importante salvaguardare, è un luogo di pregio artistico-architettonico, ma soprattutto quello che ci interessa è quello di capire quale sarà il percorso che verrà fatto su questo edificio, perché ad ora non si sa sostanzialmente nulla, non si hanno garanzie su come verrà trattato l'attuale edificio e su dove andrà a finire il prossimo edificio. Ecco, come consigliere comunale cercheremo di vigilare su tutto questo percorso per fare in modo, per esempio, che non succeda la stessa cosa che è successa all'ex Bramante, quindi una vendita che ha portato sostanzialmente a un immobile bloccato e fermo in degrado in pieno centro storico.